Tre film sul calcio che non vi potete perdere Il maledetto United Questa è la storia di un allenatore, Brian Clough, considerato uno dei migliori di sempre Il film però si incentra sulla sua avventura più fallimentare, quella a Leeds United L'uomo in più Questo è, sì, un film sul calcio però, è anche il primo film in assoluto di Paolo Sorrentino Un calciatore e un cantante, entrambi alla fine della loro carriera vengono messi a confronto Cosa succede quando sei abituato ad essere una celebrità e perdi tutto? Sognando Beckham La classica storia del sogno impossibile, in pieno stile anni 2000 Un classicone per noi millennial, è un film da scoprire per tutti gli altri Keira Knightley non è mai cambiata raga